Lise Soardi, prossima naufraga dell'isola dei famosi, svela di aver accettato il reality pensando a suo fratello, la 38enne, per la prima volta al colere della sera parla di Domenico. A 7 anni più di me vive da eremita in montagna e in una casa senza tv e senza gas si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, a lui e a mio papà con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna, persone grintose che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all'opposto ma questa esperienza ci sta avvicinando poco a poco, mi sta insegnando diverse cose pratiche come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto parlando dell'isola non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò.